Torna l'evento Terre degli Uffizi, pensato durante il lockdown per combattere il turismo di massa Firenze e valorizzare i territori di quello che una volta veniva chiamato il contado. L'idea è semplice, riportare per mostre temporanee capolavori delle gallerie degli uffizi nel luogo dal quale provengono o in altri ad essi legati in qualche modo. Quest'anno tornano protagonisti Montespertoli, Anghiari e San Giovanni Valdarno, che erano già stati coinvolti, mentre partecipano per la prima volta Montelupo, Scarperia e Grosseto. In ognuno di questi comuni si terrà una mostra dedicata nel corso del 2023. A Montelupo la ceramica, la prima a partire il primo aprile, a Montespertoli Filippo Lippi, in Mugello i ritratti dei medici, a Anghiari in primavera un approfondimento sulla famosa battaglia, a Grosseto i favolosi anni Sessanta. Infine a San Giovanni Valdarno l'ultima mostra, a partire a settembre, sarà dedicata a Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla Corte Medicea. Rende giustizia alle opere interpretandoli e valorizzandoli nei nuovi contesti storici, che talvolta sono quelli antichi, talvolta sono delle proposte che comunque sono identitarie per il luogo. Terre degli Uffizi sta avendo un grandissimo successo. Nei luoghi toccati dal progetto i visitatori sono aumentati del 37% rispetto a prima. Tra chi ha sostenuto fin dall'inizio il progetto Terre degli Uffizi c'è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Anche questa è una delle iniziative che riguarda la missione della Fondazione e ancora una volta forse abbiamo raggiunto un altro successo.